De Roma nostra siamo i limoretti, siamo i romani e in più tre steverini, volumpertissimo di più perfetti, cantamo tutti e siamo ballerini. Se dice gente allegra e Dio lo aiuta, e a noi ci aiuta e poi sapete perché? Ogni tanto una maniata e una bevuta, e tutto quanto il resto vi è da sé. Siamo romani, tre steverini, siamo signori senza quadrini, è il cuore nostro che è una capanna, il cuore sincero che non ti inganna, se sta in bolletta non aiutiamo, però da amicchi non ci passiamo. Ciao, io sono Deborah, vengo qui dal mercato Triassi di Via Chiana, e quindi la nostra storia viene tutta da mio nonno, che prima lavorava ai mercati con dei carrettini e si metteva sulla strada vicina delle fontanelle, poi piano piano, lavorando sempre sulla strada, nel 1946 hanno costruito il mercato, quindi sono entrati nel mercato e hanno fatto praticamente questi banchi singoli per ogni singolo operatore, vendendo qui il pesce. Il nostro banco praticamente è da qui dal 1946, c'erano prima i miei nonni, poi i miei genitori, adesso io, e questa è una terza generazione. Il nostro pesce è tutto nostro italiano, alcuni pesci vengono da fuori, ma perché noi non li abbiamo, prendiamo tutto il pesce al centro agroalimentare e questa è la nostra storia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.